...deviare con la punta delle dita, occasione per il Chievo, al ventottesimo... ...e che era tutta spostata da un altro versante, De Paolo in solito... ...subito interpretata dai suoi giocatori la mossa di Di Carlo. Giaccherini dalla bandiera, cross ad uscire da parte del numero 17 in maglia gialla, parte il cross di Giaccherini... ...ecco i saltatori con il po' di testa, Pallone che termina, vediamo un po' sul fondo... ...la rimessa da fondo campo, erano saltati in due del Chievo, andati sul pallone Rossettini e Cesar... ...pallone terminato oltre la linea di fondo campo, siamo al ventottesimo della ripresa... ...Chievo-Verona 2, Fiorentina 2, Muriel al quarto, Benazza al ventisettesimo... ...quindi la viola era andata sul 2 a 0, in mezzo di quella annullata Giaccherini con l'ausigno del VAR... ...poi Stepischi al ventottesimo e nella ripresa al quarto d'ora. Su calcio di rigore, Pellissier, il rigore è nettissimo per un fallo di mano all'altezza della linea di forza di Benazzi... ...che aveva rispetto alla conclusione destinata in porta, occhio a Chiesa... ...deve uscire su Trentino in attenzione... ...pettiamo il pallone, il pallo laterale, non è riuscito Jarosjeski a trattenerlo sul terreno di gioco... ...rimessa in favore della Fiorentina che sbanda, è vero, in difesa... ...ma quando attacca... ...